Per quanto riguarda la regolarità dei nostri accordi passiamo alla seconda triade che è quella minore. Partiamo sempre da una tonica che dà il nome al nostro accordo. In questo caso gli intervalli di terza che noi andiamo ad aggiungere, sommare alla nostra tonica, sono strutturati in modo viceversa a quello della triade maggiore. Ossia, tonica, intervallo di terza minore, 1, 2, 3, e arriviamo a mi bemolle. Da questo mi bemolle aggiungiamo un intervallo di terza maggiore, 1, 2, 3, 4 semitoni, la triade diventa minore. Triade regolare. Come scriviamo questa triade nella nomenclatura anglosassone? In questa maniera. No, minor, stop. Molte volte potrete trovare anche questo che fondamentalmente potrebbe anche indicare una tipologia, quindi lasciamolo tra virgolette anche se non è del tutto sbagliato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.